Il Presidente della Regione Mario Oliverio, con comunicazione indirizzata al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, ha richiesto l'attivazione della conferenza dei servizi per gli oneri di servizio pubblico da imporre sui collegamenti aerei dell'aeroporto di Crotone. La comunicazione è stata inoltrata a seguito del disco verde acceso dalla Direzione di Trasporto Aereo del Ministero e dall'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, con note del 9 e dell'11 luglio, ed in esito anche alla definitiva trasmissione da parte della Regione della documentazione a supporto richiesta dal Ministero. Ora si pensa di poter fornire la possibilità di collegamenti per Roma, Venezia e Torino da Crotone, su cui parametri di frequenza e tariffazione saranno chiamati a confrontarsi gli enti territoriali nel corso dei lavori della conferenza dei servizi che dovranno concludersi entro 45 giorni dalla attivazione. Scartato intanto il collegamento per Milano, in considerazione delle valutazioni espresse dal Ministero, da Enac e da Sacal, che hanno fatto rilevare le ultime performance in termini di movimentazione passeggere registrate sul collegamento dall'aeroporto di Crotone verso l'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio. Si compie oggi un importante passo per la definizione di un percorso lungo e faticoso che si è posto comunque un obiettivo alto, questa è la dichiarazione del Presidente Oliverio, garantire il diritto alla mobilità di vasta area del territorio crotonese, catanzarese e cosentino. La Regione, ha ancora detto Oliverio, concordamente con gli enti dello Stato, ha scelto di affrontare in via preventiva ogni possibile situazione che sarebbe stata di ostacolo, anche solo potenziale alla definizione, dell'ITER per l'attivazione dei collegamenti e si è fatta diretto carico di studi, valutazioni e analisi, anche prescindente dalla ripartizione delle competenze dettate dal dato testuale normativo. Le inutili e esteri le polemiche, e malgrado queste, ha concluso Oliverio, gli organi di indirizzo politico e di concreta attuazione non sono stati distolti dall'importante obiettivo raggiunto che, se ulteriormente perseguito, va nella direzione, ha concluso Oliverio, di ristabilire il sacrosanto diritto alla mobilità per una comunità di almeno 290.000 persone dislocate nelle province di Crotone, Cosenza e Catanzaro.